Un caloroso saluto dal vostro corso d'ario, siamo alle porte di agosto e vi faccio questa domanda serale. Avete mai notato come le donne, le ragazze, le femmine dell'est, Moldavia, Romania, Bulgaria, Russia, Estonia, Lettonia, Ucraina, verso i 35, 36, 37, 38 si fanno i capelli corti, ma non corti il melone, capiature strane, no, sanfrancescane, dritte, così, col cespuglia in testa, tipo col bacco, perché? Tutte. Se qualcuno mi sa rispondere, gli farò un grande regalo, 20 centesimi, tipo win for life. Cioè, secondo quale parametro c'è una spiegazione logica per cui tutte le donne dell'est, verso l'età dell'affermazione della proprio psiche, 35-40, no, stato mentale non più brado, si fanno questo taglio di capelli, obbrio-obrioso, obbrio-obrioso, perché, perché?